Come prosegue questa campagna e soprattutto il rapporto e il contatto col territorio Ligure? Prosegue con tanto entusiasmo e con tanta passione. Ho incontrato decine di sindaci del nostro territorio, dei 67 comuni della provincia d'Imperia, ne ho anche 20 della provincia di Savona che compongo nel collegio. Ho incontrato le categorie professionali, ingegneri, avvocati, architetti, l'Unione Industriale, la Conf Artigianato, la Conf Commercio, tutti coloro che in questo territorio hanno le radici. Da ognuno di loro sono arrivate non solo delle proposte ma degli interessantissimi input che ho già raccolto e che hanno già costituito per esempio un'iniziativa, quella della Carta del Ponente Ligure che sarà l'unione di tutti i sindaci dell'entroterra affinché finalmente le politiche sul territorio possano trovare a Roma il loro sviluppo.